La quarta settimana del tempo quaresimale le impressioni, stiamo cominciando a vivere, stando dentro le nostre case, forse anche il peso di questa situazione. Tante persone, e ringraziamo il Signore, guariscono e tante altre invece ci lasciano. Persone care, persone che abbiamo conosciuto e stimato, persone che ci hanno fatto del bene. Mi piacerebbe, mentre continuano questi nostri incontri di riflessione sulla parola del giorno e anche sulla preghiera che la Chiesa ci consegna ogni giorno di quaresima, mi piacerebbe ogni giorno cogliere una parola particolare. La parola che mi piace sottolineare oggi, che è lunedì, è la parola novità. Questa è contenuta sia nella preghiera iniziale, che accompagna la liturgia di oggi, sia un po' anche nel brano del Vangelo. La preghiera dice così O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa che la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni misteriosi della tua presenza. Credo che il digiuno eucaristico, il digiuno dai sacramenti, il digiuno dall'incontrarci alla domenica nelle nostre comunità cristiane non impedisca al Signore di rinnovarci. I nostri sacerdoti celebrano ogni giorno, anche se da soli, l'eucaristia. Nel mondo l'eucaristia viene celebrata e comunque Gesù ha celebrato la sua eucaristia ed è attraverso quel gesto di amore, quel dono di se stesso, che rinnova tutto il mondo. E credo che sia bello sentirsi dentro questo dono di Gesù al Padre, questo dono di Gesù all'umanità, un Gesù che è venuto tra noi per rinnovare la nostra vita. Come abbiamo già avuto modo di dire, anche Gesù è passato tra noi, tra la sua gente, sulle nostre strade, ha camminato su questo mondo e ha fatto sue le sofferenze, i peccati, le lacrime delle persone. Certo, non ha risanato tutti, non ha perdonato i peccati di tutti, gesto per gesto, giorno per giorno, ma il suo sacrificio sulla croce, il suo gesto di amore, il donare la sua vita, e l'eucaristia ce lo ricorda, è stato il dono più grande. E attraverso questo suo dono, anche noi siamo rinnovati. Se entriamo in questa logica di gratuità, anche noi possiamo essere, in questi giorni, per le persone che ci vivono accanto, anche noi dei doni. Il brano del Vangelo di oggi, e durante tutta questa settimana, fatta eccezione per mercoledì, che sarà la solennità dell'annunciazione, ci accompagna il Vangelo di Giovanni. Siamo oggi al capitolo quarto, dopo il lungo racconto dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al Pozzo di Sicar, Gesù parte dalla Samaria e risale ritornando in Galilea. C'è l'incontro di Gesù con i Galilei, che lo accolgono con gioia, e poi gli parlano, c'è il caso di un funzionario del re, il cui figlio vive una situazione grave. Sembra di sentire le notizie di questi giorni, e Gesù con la sua parola rinnova la vita. Tuo figlio vive. Mi piace pensare che ancora Gesù dica queste stesse parole, e le dica sulla nostra vita di oggi, sui nostri ospedali di oggi, sulle nostre sofferenze di oggi. Tuo figlio, tuo padre, tua madre, la tua sposa, il tuo sposo, il tuo nonno, il tuo vicino di casa, il tuo don, vive. Noi vorremmo che questa parola fosse vive e ritorna a casa. Io voglio pensare che il Signore dica sempre parole di vita per ciascuno di noi, e le dica tutte le volte che ci salva dal peccato, tutte le volte che ci restituisce a una vita nuova, tutte le volte che fa ripartire la bellezza di una vita che vale la pena di essere spesa. Mentre in questa giornata pensiamo a questa parola, novità, pensiamo a tutte le volte che il Signore o gli altri, avvicinandoci, parlandoci, perdonandoci, hanno creato qualcosa di nuovo in noi. E di questo rendiamo grazie, che sia una giornata e un inizio di settimana vissuta nella gratitudine per tutte le cose belle e nuove che il Signore e gli altri hanno fatto, fanno e faranno dentro di noi. Ringraziamo il Signore anche per quello che vivremo da qui in poi, per quello che ci metterà davanti sulla nostra strada. Che sia un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Grazie.